È in corso all'Istituto Centrale della Grafica di Roma Fumetti nei Musei, la mostra in cui sono esposte circa 100 tavole originali, le copertine e gli schizzi dei 22 fumetti che alcuni dei più famosi fumettisti italiani hanno ambientato nei musei dello Stato. L'ingresso è gratuito, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 in via della Stamperia 6 a Roma. Tutte le informazioni su beniculturali.it